Forti temporali, come già previsto, si sono abbattuti domeniche in tutta la Sicilia. L'allerta meteo anche a Caltanissetta, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per un cortocircuito provocato dalle forti piogge in un pannello elettrico di via Rampello. Interventi dei pompieri anche in via delle Calcare, per alcuni massi caduti in strada, per danni dovuti alle piogge in vicolo Lococo e in contrada a Xirbi per caduta alberi. Qualche disagio allo stadio Palmintelli nel corso della partita, in particolare nel secondo tempo, del campionato di eccellenza tra la Nissa e la Folgore Selinunte. Il match è stato giocato comunque regolarmente. Le ondate di maltempo, compresa quest'ultima, hanno ingrandito ulteriormente le buche del manto stradale in città e nelle strade di collegamento. Allagate le strade a Delia e Sommatino, i sindaci hanno deciso il regolare svolgimento delle elezioni nelle scuole. Il sopralluogo per verificare le condizioni delle strutture ha infatti dato un esito che non giustifica la chiusura. Transitabili con prudenza la Mussomeli-Caltanissette e la Mussomeli-Acquaviva, sconsigliati percorsi alternativi a causa di caduta massi. Situazione sotto controllo a Gela. Declassato a giallo il codice arancione delle scorse ore, previste piogge modeste o addirittura assenti. Codice rosso della protezione civile solo nel Messinese. Situazione critica nell'Agrigentino, soprattutto a Sciacca, dove è stata decisa la chiusura delle scuole come anche a Catania. L'esondazione di un fiume ha bloccato un treno tra Agrigento e Palermo e un uomo è annegato a Castronovo di Sicilia a causa di un torrente esondato che lo ha travolto.